Denison Lampariello, nella partita di mercoledì scorso a Latina un'ulteriore conferma che questa Cucine Lupe Banca Marche ha bisogno di tutti, che tutti sono fondamentali per questa squadra, te compreso naturalmente perché ancora una volta hai dato un grande contributo in seconda linea nei momenti in cui ce n'era bisogno. Sì, penso che abbiamo fatto queste ultime due settimane un allenamento diverso, abbiamo cambiato tante cose e stiamo cercando di migliorare anche le cose che non siamo ancora a posto e è quello, dobbiamo ogni volta cercare di fare meglio e meglio, adesso questa settimana sarà una settimana impegnativa, cerchiamo di migliorare anche altre cose e preparare la partita con Piacenza che sarà ancora più dura. Adesso siamo arrivati in semifinale, giochiamo a Osimo e speriamo che tutti possano essere presenti lì. Ecco, gara 4 con Latina, una vittoria importantissima, arrivata con una bella prestazione, dunque una partita che ha rilanciato un po' le prerogative di questa Cucine Lupe Banca Marche che aveva fatto registrare un inizio un po' difficile, no? Sì, sì, abbiamo fatto vedere che la squadra è tornata come prima, stavamo allenando bene ma alla fine, quella prima partita con Latina e anche un po' prima non eravamo riusciti a esprimere quel gioco nostro che facevamo nell'allenamento. Questa ultima contro Latina abbiamo fatto vedere che la nostra squadra è tornata con la sicurezza, con la conferma delle battute e anche dei muri. Adesso hai detto una settimana di tempo per preparare al meglio questa serie con Piacenza, che sfida ti aspetti? Io penso che sarà... dobbiamo pensare come la finale adesso. Questa sarà una partita molto difficile, Piacenza sta giocando bene, ha giocato con continuità tutta la stagione e ci sono giocatori esperienti lì. Dobbiamo fare bene il nostro, se facciamo bene la battuta, muro, cambio palla, mettiamo in difficoltà tutte le squadre e è quello che spero, di fare bene il nostro gioco.